Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Sono andato a leggermi le parole del procuratore aggiunto Paolo Guido che ha parlato di un silenzio assordante della comunità di Montebello. È giusto colpevolizzare gli abitanti di quella cittadina? Guardi, io credo che il 16 gennaio sia stata una giornata molto importante per il Paese. Dobbiamo gioire per il fatto che un latitante condannato per sette stragi sia stato finalmente assicurato alla giustizia. Però è anche doveroso sottolineare due considerazioni. La prima è che è oggettivamente vergognoso che per 30 anni un soggetto di questo tipo sia stato latitante. La seconda considerazione riguarda tante anomalie che ci sono in questa cattura, soprattutto nel comportamento di Matteo Messina Denaro negli ultimi anni. E tornando a rispondere alla sua domanda, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto il collega Paolo Guido sul silenzio assordante, sull'omertà dell'ambiente dei cittadini di Campobello e di Castelvetrano. Però a mio avviso non è sufficiente sottolineare questo. Nel senso che se Matteo Messina Denaro è stato latitante come è stato latitante per 30 anni ed è stato latitante almeno negli ultimi anni a casa sua, la responsabilità non può essere soltanto quello o quella della borghesia mafiosa che l'ha protetto o dell'omertà dei cittadini di Campobello e di Castelvetrano. È ovvio che una latitanza di questo tipo, così a lungo protratta, non può che avere goduto di coperture istituzionali, anche alte. Cioè lei pensa a un livello politico, a un livello di polizia, di carabinieri, di forze dell'ordine, di chi? Queste saranno le indagini che dovranno essere molto approfondite a poterlo eventualmente dimostrare. Però noi non ci dobbiamo sorprendere di quello che dico, non dobbiamo sempre parlare di fantasie complottistiche, perché dietrologie e fantasie complottistiche erano state definite anche quelle sulla copertura della latitanza di Bernardo Provenzano, 43 anni. Adesso ci sono sentenze che spiegano come per alcuni anni una parte importante delle forze di polizia, un reparto d'eccellenza dei carabinieri, ha protetto la latitanza di Bernardo Provenzano perché in quel momento, cito le parole della sentenza, indicibili ragioni di interesse nazionale facevano sì che si ritenesse che Bernardo Provenzano dovesse restare libero per contrastare un'altra ala della mafia, quella cosiddetta stragista. Si dice nella sentenza ci si è alleati con un nemico per sconfiggerne uno ancora più pericoloso. Questo è un punto importantissimo.